Oggi ci siamo incontrati con l'amministrazione comunale di Fano per un incontro operativo per la costruzione e il potenziamento dell'ospedale Santa Croce di Fano. Già avevamo messo a conoscenza l'amministrazione comunale della determinazione della giunta regionale di investire 16 milioni di euro per la nuova palazzina dell'emergenza. Oggi abbiamo definito i contorni dell'accordo quadro fra Regione Marche e Comune di Fano per diventare operativi e quindi realizzare al propesto questa palazzina che risponderà all'emergenza urgenza di questo territorio e dei comuni limitrofi serviti dall'ospedale Santa Croce. Contestualmente abbiamo parlato anche dell'importante investimento di 5 milioni e 500 mila euro a cui si aggiungono 1 milione e 750 mila euro dovuti all'efficientamento energetico dell'ex ospedaletto dove prevediamo un rifacimento completo della palazzina per poter ospitare. Sapete è stata approvata una mozione in consiglio regionale sull'ospis pediatrico e quindi noi diamo alla comunità di Efano una palazzina che progressivamente possa ospitare anche quel servizio che dovrà essere previsto dai prossimi piani sociosanitari della Regione nelle modalità che il collega Saltamartini e il Consiglio regionale decideranno su una mozione che se non erro è stata approvata su proposta di un consigliere regionale, Luca Serfilippi, proveniente da questa comunità. Contestualmente quella palazzina potrà ospitare potenzialmente anche altri servizi territoriali per la comunità affanese del circondario. Azioni concrete che vedono un ampliamento dell'attuale struttura del Santa Croce con una struttura nuova che consentirà poi in passi successivi anche di intervenire per la riqualificazione degli altri nel tempo. Questo oggi quindi è stato un incontro operativo per ragionare su quello che deve essere il percorso ed è un punto importante. Poi tutti i ragionamenti si accompagneranno con quelli che sono i contenuti sanitari che staranno dentro il piano sanitario. Mentre l'altro elemento importante che segue sia l'ordine del giorno approvato in consiglio regionale ma anche in consiglio comunale in precedenza per la struttura del cosiddetto ex ospedaletto a cui la città è molto legata. Questo è un intervento importante perché verrà demolito e completamente ricostruito che darà una risposta a quella che è una richiesta di questo territorio alle cure palliative come è stato richiamato negli documenti ma visto dal sindaco di Fanno diventerà anche un'opportunità, uno spazio che ci consentirà anche di fare altri ragionamenti come quelli degli ospedali di comunità che affronteremo in un secondo momento.